Benvenuti da FTA Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Oggi andiamo a guardare una tematica abbastanza importante che riguarda le modalità di approccio alla scelta di una strategia operativa. Mi è stata fatta una domanda a seguito di un video che ho fatto recentemente dove si parlava di ETF da considerare come opportunità di investimento. Sostanzialmente gli ETF che erano stati scelti erano tutti caratterizzati da una buona tendenza rialzista. La domanda che è stata fatta è non sarebbe meglio identificare l'inizio della fase stessa, quindi non puntare su strumenti che hanno già una tendenza rialzista consolidata, ma cercare di individuare il movimento nella sua fase iniziale. Allora sicuramente ha diciamo senso questo tipo di dubbio o perlomeno di domanda. È vero che nell'analisi tecnica si tende, secondo me sbagliando, adesso vi dico come mai, a puntare molto sullo studio delle fasi di inversione. Quasi sempre ci si concentra sul momento in cui la tendenza può invertire. In realtà se facciamo un passo indietro e andiamo proprio all'origine di che cos'è l'analisi tecnica, troviamo tra i postulati di base quello forse più conosciuto che dice che il trend è il mio amico. Cosa vogliamo dire con questa frase? Sostanzialmente che i mercati si muovono per tendenze, si muovono seguendo un trend, e è più facile che questa tendenza, una volta intrapresa, prosegua piuttosto che inverta. Quindi ci sono maggiori probabilità di vedere il proseguimento di un trend piuttosto che una sua inversione. Se questo è vero, e diciamo che essendo uno dei postulati è una di quelle affermazioni che diamo per scontate sia vera e sulla quale basiamo poi tutti i ragionamenti successivi, allora dovrebbe avere più senso andare a cercare quelle che sono le fasi che mi indicano un possibile proseguimento di una tendenza già consolidata piuttosto che i momenti di inversione. Fondamentalmente quello che bisogna quindi fare è andare ad individuare una tendenza quando ci sono appunto i presupposti per parlare di una tendenza al rialzo o al ribasso e poi andare a sfruttare quelle situazioni che mi fanno capire che la tendenza sta proseguendo. Quindi rimanere per quanto possibile con il trend piuttosto che appunto andare a cercare solo i momenti di inversione. Certo i momenti di inversione sono importanti, nel momento in cui si realizzano mi possono segnalare o la chiusura della posizione in essere o l'apertura di una nuova posizione ma poi quello che è ancora più importante è la gestione di questa posizione nel momento in cui io la intraprendo quindi quella parte diciamo di analisi che va sotto il nome di money management e che è di importanza fondamentale. Ovviamente dobbiamo chiarirci sul fatto che quando parlo di una tendenza devo sempre fare riferimento all'orizzonte temporale di mio interesse qui stiamo guardando un grafico del settoriale Rostox sulla tecnologia con time frame giornaliero se io andassi a guardare invece un grafico del Fuzzimib Future a 15 minuti ovviamente troverei una situazione molto diversa anche nell'ambito del stesso mercato una cosa se lo guardo con un grafico a elementi settimanali una cosa se lo guardo con un grafico intraday è evidente che quella che in una situazione di lungo termine quindi mettiamo ad esempio un grafico settimanale su questo Rostox Technology in questa situazione di lungo termine partire dai minimi del 2009 è evidente che la tendenza è rialzista però se invece mi concentro solo su quello che è accaduto negli ultimi mesi vedo che posso parlare di una tendenza ribassista quindi in base a questa scelta dell'orizzonte temporale poi andrò a valutare quella che è la mia operatività se sono un investitore andrò a guardare un grafico di questo tipo e quindi cercherò di rimanere con questa tendenza rialzista una volta che questa si è sviluppata che ha iniziato a dimostrarsi tale mentre se sono un trader che lavora su un orizzonte temporale più ristretto questi spazi così ampi non saranno adatti alla mia operatività e dovrò concentrare l'attenzione su un orizzonte temporale più stretto partiamo comunque con un grafico a elementi giornalieri giusto per fare un esempio di quello che è il ragionamento verso il quale vi voglio portare e guardiamo quindi appunto questo grafico dove riconosciamo ad esempio una fase rialzista che ha iniziato a svilupparsi se vogliamo con il superamento di questa trend line questa è una trend line importante perché ha diciamo costituito la parte alta di un canale discendente quindi qui abbiamo visto dai massimi del novembre 2021 svilupparsi una fascia discendente quando questa fascia si è interrotta ovviamente quindi andiamo a vedere tutta una serie di segnali che mi fanno pensare che c'è stata un'interruzione a tendenza ribassista come la rottura della trend line o la rottura anche della media mobile esponenziale a 200 giorni praticamente sono avvenute nella stessa seduta sono avvenuti praticamente nella stessa seduta questi due segnali quindi da questo momento in poi posso iniziare a ragionare in ottica di una tendenza rialzista quindi ovviamente nel momento in cui la tendenza rialzista inizia a delinearsi andrò ad attivare una strategia di acquisto ripeto questo esempio fa riferimento al grafico giornaliero ma lo stesso identico ragionamento lo possiamo fare su un grafico di time frame diverso e nel momento in cui io attivo una posizione a rialzo come dicevamo la cosa importante a quel punto diventa il money management ho tutta una serie di strumenti che mi permettono di capire se la mia tendenza rialzista è ancora in essere o meno e piuttosto che cercare diciamo delle indicazioni di inversione andrò a cercare delle indicazioni di continuazione per magari incrementare la mia posizione qui ad esempio abbiamo visto che un segnale a rialzo l'ho avuto intorno a area 7 e 30 qui vi ho disegnato questa linea che è la neckline testa a spalle che si era visto dai minimi di inizio ottobre e a un certo punto i prezzi sono tornati come da manuale a fare un pullback sulla neckline sappiamo che questo è un comportamento abbastanza tipico ecco in questa situazione avrei potuto aspettare il mercato per provare a incrementare la mia posizione successivamente vediamo una ripresa dell'up trend e nella fase diciamo che ha portato fino ad oggi non ci sono mai stati dei segnali contrari al proseguimento del rialzo qui era comparsa questa figura di forma triangolare che può essere identificata come un pennante quindi una classica figura di continuazione ancora una volta piuttosto che andare a cercare segnali di inversione vado a cercare segnali di continuazione come il completamento del pennante quindi la rottura della sua parte alta per valutare un incremento della posizione quindi vado a modulare diciamo la mia operatività in questo senso attualmente sarei in attesa di vedere il superamento di quest'area 930 940 che è la parte alta di questa fascia laterale per eventualmente avere un nuovo segnale di rialzo quindi quello che dobbiamo imparare a fare è cambiare proprio il nostro modo di ragionare quando vediamo una situazione come questa che può essere considerata anche un potenziale doppio massimo ci sono due massimi allineati sugli stessi livelli qui una potenziale figura di inversione piuttosto che pensare come primo scenario a quello dell'inversione facendo riferimento a questo a questa pagina dove abbiamo detto che il trend è mio amico è più facile con la tendenza prosegua piuttosto che inverta la prima cosa il primo scenario che devo ipotizzare non è quello dell'inversione ma quello della continuazione quindi pensare che questo sia un rettangolo certo devo essere pronta a cambiare idea in caso di discesa di sotto alla base del rettangolo perché in quel caso effettivamente potrebbe trattarsi di un doppio massimo ma il diciamo anche il mio atteggiamento psicologico non deve essere quello di cercare sempre i massimi nel caso di una tendenza rialzista o i minimi nel caso di una tendenza ribassista ma imparare a rimanere con la tendenza del resto una delle regole di base del trading è lasciare correre i profitti e tagliare le perdite di solito invece si fa esattamente il contrario non si lasciano correre i profitti e si tagliano e al tempo stesso non si tagliano le perdite andiamo a prendere un altro grafico quindi qui spero di aver spiegato un po quello che è il nostro concetto andiamo a prendere un altro grafico guardiamo ad esempio ferrari che è un altro titolo che ha una tendenza di fondo evidentemente rialzista dalla sua origine da quando è entrato nel mercato a 28 circa non mi ricordo se questi sono effettivamente i minimi si sono i minimi assoluti a 27,90 28 euro circa adesso siamo saliti a 300 quindi ha decuplicato il suo valore in sei anni è evidente che ci sono state anche delle fasi negative durante questa evoluzione positiva però se io fossi un investitore di lungo termine dovrei ragionare sempre nell'ottica di cercare di mantenere la mia posizione piuttosto che di andarla a ridurre e il mercato mi fornisce molti diciamo spunti per continuare con questo tipo di atteggiamento vedete ad esempio qui abbiamo il rialzo dal minimo del 2020 al massimo del 2021 che cosa è successo sì c'è stata una fase di ripiegamento ma guarda caso si è fermata proprio sul 61,8 per cento di ritracciamento sappiamo benissimo che questa è la quota che separa una fase correttiva quindi una fase di storno solo temporaneo da una fase di inversione di trend quindi una volta riconosciuta la mia tendenza rialzista nel momento in cui si avvia una fase negativa certo posso decidere di adottare tutta una serie di protezione ad esempio utilizzo la media mobile a 50 giorni per modulare la mia operatività posso dire se ho intrapreso una posizione a rialzo ad esempio in questa fase dove è stata superata una forte resistenza orizzontale posso anche decidere a un certo punto di ridurla se il noto che ci sono delle indicazioni negative qui ad esempio era comparso un testa spalle ribassista e quindi giustamente posso decidere di alleggerire la mia posizione però se ho un'ottica di investimento di lungo termine quello che devo fare è soprattutto andare a cercare le opportunità per un nuovo ingresso piuttosto che le opportunità per diciamo una operazione in senso contrario ritornando al discorso dell'orizzonte temporale se invece non sono un investitore di lungo termine ma sono più spostato verso il trading ovviamente una volta riconosciuto il mio testa spalle la mia tendenza dominante sarà quella ribassista quindi se sono uno shortista posso valutare la prospettiva di entrare con una posizione a ribasso ripeto però con un orizzonte temporale quindi una volatilità attesa per i miei target completamente diversa rispetto a quella dell'investitore di lungo termine e anche in questo caso come vedete ovviamente il mercato mi dà dell'opportunità per sfruttare questo mio questa mia diciamo atteggiamento operativo qui ad esempio come abbiamo visto prima una volta comparso il testa spalle c'è stato poi ancora una volta un bellissimo pullback sulla decline che mi avrebbe dato una nuova occasione per vendere quindi è fondamentale avere chiara quella che è la nostra diciamo attitudine operativa il nostro orizzonte temporale e una volta individuato quello cercare appunto di sfruttare la tendenza una volta riconosciuta per mantenere il più possibile la posizione ancora una volta qui abbiamo un testa spalle quindi nel momento in cui si realizza un segnale rialzista io posso decidere vediamo se riesco a ritornare sul grafico io posso decidere di operare al rialzo da quel momento in poi andrò a cercare i segnali di proseguimento del trend quindi nel caso di inizio di una fase di ripiegamento cosa andrò a fare andrò a cercare di posizionarmi intorno al 50 61 8 per cento retracement vedete in questo caso ancora una volta i prezzi sono fermati proprio sul 61 8 per cento retracement per andare ad incrementare la mia posizione tutte le volte che si viene a disegnare una situazione diciamo incerta o ad esempio se decide utilizzare la media mobile esponenziale a 50 giorni come riferimento nel momento in cui si scende sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni posso decidere di alleggerire la posizione quindi qui avrei potuto alleggerire in questo caso per poi incrementare nuovamente proprio sul 61 8 per cento retracement da allora non ci sono stati più momenti di incertezza forse qua c'era un ulteriore motivo per alleggerire la posizione e avrei poi nuovamente incrementato al superamento di questa forte resistenza orizzontale per adesso poi negli ultimi mesi la media è sempre rimasta al di sotto dei prezzi posso decidere visto quello che è accaduto sia a marzo sia a maggio di sfruttare la media magari come area di supporto sulla quale tentare nuovi acquisti quindi possiamo fare anche altri esempi però penso di aver fatto capire quello che è il diciamo l'atteggiamento che vi suggerisco di adottare che è un atteggiamento favorevole appunto al mantenimento della posizione sempre nell'ambito dell'orizzonte temporale che all'interno del quale mi sono prefisso di operare piuttosto che invece la ricerca continua di momenti di inversione è vero che fa più sensazione quindi siamo più abituati in termini di notizie avere diciamo un'indicazione di un arresto una inversione del trend perché se siamo effettivamente corretti abbiamo anticipato un cambiamento di tendenza sicuramente questa cosa dà diciamo un maggiore se vogliamo lustro alla nostra analisi ma da un punto di vista di operatività sono convinto che sia molto più profittevole capire che quello che è nel nostro interesse è appunto fare lasciare correre i profitti creare le condizioni giuste per avere questa posizione in eventuale posizione a rialzo e ribasso aperta più a lungo possibile per sfruttare proprio il fatto che i mercati si muovono per tendenza questo non vuol dire ovviamente disinteressarsi della nostra posizione vuol dire semplicemente non ragionare sempre in termini di potenziale inversione tutte le volte che c'è una frenata perché come vedete quando una tendenza si sviluppa molto spesso quando i prezzi vanno a frenare in realtà poi c'è un proseguimento quindi queste frenate sono solo delle pause non sono delle inversioni nel momento in cui l'inversione effettivamente si realizza ritorniamo con la nostra media a 50 giorni nel momento in cui l'inversione si realizza se ho un orizzonte temporale di investimento di lungo termine andrò a cercare di sfruttare la fase di ripiegamento se mantiene i tratti correttivi in questo caso si è fermata proprio sul 50% di retracement quindi ha mantenuto i tratti correttivi per incrementare la mia posizione diciamo che fino a che rimango al di sopra di certi livelli la mia tendenza originaria di rialzo resta intatta quindi se la tendenza originaria di rialzo è intatta l'operatività corretta è quella al rialzo non è quella al ribasso andiamo a guardare rapidamente il nostro future magari metto un grafico orario non a 15 minuti quindi facciamo un esempio anche rimanendo nell'ambito dell'intraday qui abbiamo faccio un po' da fine maggio ovviamente che questa si stava sviluppando come una tendenza rialzista dopo questa fase di pausa l'ho saputo non il 31 maggio ma nel momento in cui i prezzi hanno iniziato a superare delle resistenze importanti qui ad esempio c'era questo riferimento orizzontale molto rilevante diciamo che da un certo punto in poi ho iniziato a credere in uno sviluppo rialzista nel momento in cui i prezzi iniziano a tornare indietro se credo che questa sia una tendenza rialzista mi preoccupo più della possibilità di incrementare la posizione ancora una volta sul 50 per cento retracement piuttosto che di andare ad invertire il mio la mia operatività dopo questa fase abbiamo visto un'altra pausa e come vedete tutte le volte che il mercato è andato incontro ad una pausa in realtà poi è sempre ripartito come vedete l'analisi tecnica tradizionale funziona estremamente bene qui è ripartito con questo minimo del 7 di luglio che si appoggia esattamente su questa trend line quindi i segnali che il mercato mi invia anche solo guardando il grafico sono estremamente efficaci adesso siamo ancora con la tendenza rialzista attiva prendiamo atto del fatto che c'è questa forte resistenza avete lato alto di questo canale sta facendo dannare oggi in particolare i rialzisti ma non ci sono ancora i presupposti per assistere ad una fase di ripiegamento quindi a meno che io non operi nell'intraday se opera una logica diciamo di trading multiday anche se non investimento ma sempre in ottica di trading per adesso non ci sono motivazioni per andare a chiudere i miei long se dovesse esserci una fase di ripiegamento al di sotto dei livelli di supporto che ritengo interessanti e importanti possa andare eventualmente ad alleggerire la posizione ma ancora una volta nella ricerca di nuovi livelli per incrementare sono consapevole del fatto che questo tipo di atteggiamento richiede una diciamo disciplina mentale molto solida quando il mercato va contro di noi diventa difficile continuare a credere nella diciamo nostra strategia però come avete visto se la tendenza è diciamo ben strutturata cosa che di solito accade perché abbiamo visto che i mercati si muove per tendenze continuare a credere nel trend ovviamente non oltre ogni ragionevole segnale ma continuare a credere nel trend è sicuramente la strategia che alla lunga dà maggiori soddisfazioni vi ringrazio l'attenzione vi invito a commentare questo video se ci sono delle diciamo cose che volete chiarire o se ci sono delle diciamo domande relative a questo intervento se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al nostro canale